Questo è un tavolo da stiro con un'ampia superficie, perfetto per un uso regolare. E la qualità è fantastica, ecco perché questo tavolo da stiro è dotato di una garanzia di 10 anni. Il tavolo da stiro è perfettamente stabile, ha un poggiaferro in metallo che si adatta a tutti i modelli di ferro da stiro standard in posizione diagonale, ed è adatto sia per mancini che per destri. La pratica fodera di cotone ha uno strato in spugna elastica ed è stato prodotto in modo tale che rimanga sempre tesa quando è posizionata. Questo tavolo da stiro intelligente possiede un blocco di sicurezza che previene la chiusura accidentale, un dispositivo indispensabile quando si hanno dei bambini piccoli. Inoltre questo blocco evita che il tavolo da stiro si apra quando non vuoi. Il piano di stiratura permeabile al vapore misura 124 x 38 cm. L'altezza può essere regolata in 7 diversi livelli, da 69 a 96 cm, e sono inoltre disponibili fodere sostitutive perfettamente adattabili e con decori di design.